Nel 2016 ha suonato ininterrottamente in oltre 70 concerti ovunque sold out per poi affrontare la sua prima tournée mondiale che lo ha portato ad esibirsi in tre continenti e Max Gazzea ha proseguito anche nel 2017 ad affascinare il pubblico di ogni età perché la sua non è una predilezione per un genere e piuttosto la scelta di vita di essere un musicista che lo porta a non stare lontano dai palchi per troppo tempo così ecco lo protagonista anche in questo tour estivo intitolato semplicemente con il suo nome che è un vero e proprio concerto rock e giovedì 10 agosto per la notte delle stelle a partire dalle ore 21 e 30 presenterà tante sue perle nell'appuntamento alla Samer Arena di Soverato nell'ambito della sessione estiva del festival d'autunno diretto da Antonietta Santa Croce. La sezione estiva del festival d'autunno si conclude appunto giovedì 10 agosto qui nella magica Samer Arena di Soverato quale location migliore appunto per trascorrere insieme al pubblico la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle con il personaggio forse più amato di quest'estate dal pubblico Max Gazzea. Il suo tour sta veramente in anellando un successo un soldato dopo l'altro e anche qui a Soverato grandissima è l'attesa nei confronti di questo concerto che nel quale appunto Gazzea proporrà i suoi più importanti successi e anche alcuni brani tratti dal suo ultimo CD Max Milian. Gazzea è un personaggio tutto tondo, è celso bassista, ha avuto collaborazioni eccellenti con i più grandi artisti diciamo italiani e poi si è anche cimentato nel cinema in Basilicata Cost to Cost e tante altre pellicole. Ma soprattutto appunto colpisce la sua musica e la ricerca dei suoi testi. Sono dei testi appunto molto ricercati e uniti appunto a un sound veramente molto ballabile e i suoi tormentoni diciamo sono poi conosciutissimi dal pubblico di tutta l'età quindi veramente sarà un concerto imperdibile. Noi vi aspettiamo anche a Soverato, ci sono ancora biglietti disponibili, si possono rintracciare sia qui nella Summer Arena che ogni sera dalle 22 in poi sarà aperta come botteghino oppure presso tutte le pre vendite Ticket One sia a Soverato, a Catanzaro ma anche sul nostro sito festivaldautunno.com dove appunto troverete tutte le informazioni inerenti allo spettacolo e anche appunto potrete acquistare direttamente il biglietto.